Salve ragazzi, sono in Accademia Eteria a Prato, dove in esclusiva insegno i miei corsi. È un posto meraviglioso, è un posto pieno di energia positiva. Quello che io ho sempre cercato nella mia quasi 40 anni di carriera, ovunque insegnavo, finalmente ho trovato questo posto, è un'accademia olistica dove si svolgono tanti corsi, ci sono tanti professionisti che sono tutti sempre nella stessa direzione del mondo olistico. Per questo io affitto questa bellissima stanza dove soltanto ho 12 posti disponibili per la scelta, proprio ho voluto questa esclusività, faccio 10 ore alla settimana di due tipologie di stretching. Oggi faccio la pubblicità della stagione 2024 settembre e 2025 agosto. Non mi fermo mai, io faccio lezioni 12 mesi all'anno e due tipologie di lezioni. Harmony Stretch è dedicato proprio via lo stress dal corpo, via dolori, basta a sentirsi sempre giù, non dormire, avere disagi dappertutto, non poter più condurre la nostra vita. Harmony Stretch è proprio dedicato a questo dove impariamo ovviamente a correggere le nostre posture, impariamo le varie tipi di respirazione. Tutti giovedì sera e tutti venerdì mattina la lezione finisce con un rilassamento o la meditazione o il mantra. Tutto per le persone anche scettiche, perché io non insegno yoga, non insegno meditazioni, non insegno quel genere di cose, ma le pratico e le faccio come conoscere, come le pillole. Dice proviamo a respirare per 10 minuti, proviamo a rilassarci per 10 minuti, scarichiamo tutta la nostra settimana per eliminare il nostro stress. Allora Harmony Stretch c'è lunedì alle 9 e mezza e anche alle 10 e mezza, dopodiché c'è anche alle ore 19. Poi lo troverete giovedì alle ore 18 e giovedì alle ore 19. Dopodiché troverete venerdì alle ore 9 e mezza e poi venerdì alle ore 10 e 30. Non ci sono iscrizioni, non c'è abbonamenti, comprate soltanto ogni mese lezioni che vorrete. Dice voglio comprare 4 lezioni, bene. Voglio comprare 5 lezioni, bene. Voglio comprare 10 lezioni, bene. Non ci sono problemi, mese dopo decidete tutto da capo. Effettuate le lezioni che comprate. Li dovete prenotare. Prenotare il vostro posto perché c'è soltanto 12 posti. Soltanto in esclusiva. Un ambiente eccellente, bellissimo, di altissima qualità. Dopodiché, secondo il programma, è Pilatnes. Dici Pilates che cos'è? Allora, più di 30 anni fa io ho conosciuto Pilates. L'ho praticata, essendo una ballerina professionista, ho iniziato all'età di 10 anni nella scuola più prestigiosa della Polonia di danza classica. Ho 58 anni, ho conosciuto la prima volta questo metodo, ho provato sul mio corpo, assolutamente non andava bene perché ho 70% di invalidità dovute proprio al mio lavoro come ballerina e ore e ore e ore ogni giorno di ginnastica. Allora, cosa ho creato tanti anni fa? Ho messo tutte le mie esperienze unite insieme. Yoga, stretching, ginnastica, corpo libero, Pilates, Feldenkrais, McKenzie, e tutto, 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 unito insieme. Ho praticato sul mio corpo pieno di patologie e dolori, disastro, veramente 70% di invalidità. Io ho creato questa lezione che piace tantissimo perché non ti annoi mai, le lezioni sono diverse, c'è la musica, ovviamente stimolo massimo per la mente, è dedicato ad avere un corpo bello, sano e giovane, rigenerando anche la nostra mente e ovviamente sentiamoci sempre più giovani anche se andiamo avanti. Lezioni di Pilates ci sono martedì alle ore 18 e alle ore 19 e poi anche mercoledì alle ore 10 e 30. Allora, Accademia Eteria a Prato, via Roma, potete contattarmi al numero 338 8475 751. Per qualsiasi bisogno, qualsiasi informazione, mi potete sempre chiamare, scrivete anche su WhatsApp o anche un SMS, ok? Vi aspetto, un bacione, ciao!